Una storia veramente incredibile quella di cui ho appresso a parlarvi in questo video di oggi. Si chiama SexyPancake e per l'appunto per tre anni la trans canandesi si ha facciato il pene con lo scorcio per sembrare a tutti gli effetti una donna, ma la stretta è stata così forte che ha causato qualcosa di drammatico. Ci troviamo in Taraglia, a Concaen, a trans non bastava più vestirsi e truccarsi con una ragazza, i genitali erano troppo evidenti, troppo ingombranti, troppo motivo di impedimento. Così SexyPancake ha sconfittato un esperiente che però non è costato davvero molto caro. Leccessiva costruzione infatti del pene causa problemi di circolazione e rivedete investigato un tumore. La malattia non lascia a scampo, i medici si sono così costritti ad amputare il membro. SexyPancake racconta la sua storia su Facebook, tanti arrivano a attestare il loro affetto, la ginanza, alcuni dei quali si offrono di notare tutte le spese petiche. Tra i follower c'è anche chi le fa notare in modo abbastanza pragmatico, come adesso non abbia molti più impedimenti nelle gambe, non abbia più nulla insomma, ecco. Che dire? Si contentano la SexyPancake? Penso che la Sofia possa essere contenta. Grazie.